La nostra tavola insomma non offre solo mozzarella, allora andiamo a vedere come si produce un altro formaggio dop italiano, l'asiago, nell'alto piano che porta il suo nome. Pensate che è un formaggio che ha davvero una lunghissima tradizione, veniva prodotto già nel medioevo. Vediamo questo servizio di Manuela Maddaloni per la regia di Antonio Pettinelli. Vediamo. Questo è uno dei più antichi caseifici di produzione di asiago. Sì, questo era un antico caseificio turnario, dopo la prima guerra mondiale è stato trasformato in un caseificio sociale, cioè in forma cooperativa. Qual è il segreto dell'asiago? I segreti dell'asiago sono tanti. Innanzitutto è un formaggio che è fatto in questo ambiente incontaminato, con un latte di tipo particolare, un latte di montagna e tanta tanta tradizione. Le varie fasi di lavorazione sono la pastorizzazione, la coagulazione del latte, il riscaldamento e il taglio della cagliata. Poi la cagliata viene posta su un banco di sgrondo e lì viene sminuzzata in tanti pezzettini piccoli. Si mette il sale, da lì la cagliata viene posta sugli stampi microforati e pressata. Il formaggio è praticamente fatto. Viene posto su queste assi di abete rosso e stagionato per circa un mese. Queste mucche che cosa mangiano? Mangiano un'infinità di erbe fresche di tipi diversi. Qui c'è una biodiversità incredibile. Quindi al di sopra dei 600 metri noi abbiamo un'infinità di paspoli e di malghe dove nasce proprio l'asiago dop prodotto della montagna. E questa biodiversità si riflette poi nei sapori e nel gusto del formaggio.